Niente telecamere sull'area di competenza comunale, rideterminazione della convenzione ferma al palo, interventi contro il degrado urbano non completati, passi carrabili non autorizzati, lavori del 110 da ristrutturare. Sono questi alcuni degli argomenti che saranno affrontati domani nel corso del summit istituzionale che si svolgerà in comune per il cosiddetto quartiere della cronaca, ovvero l'area delle palazzine di via 25 Aprile di proprietà dell'Ater. Una delegazione che aveva depositato una petizione agli uffici con l'elenco delle cose da fare sarà ricevuta a Palazzo per fare il punto della situazione. Sul patrimonio dell'Ater lo scorso aprile era intervenuto il consigliere comunale Angelo D'Aloisio che aveva chiesto ai vertici i dettagli relativi al bilancio previsionale 2023, congiuntamente al piano di investimenti per il bienio 2023-2025, con particolare riguardo alle azioni che l'Ater intende porre in essere sul territorio.